Musica Benvenuti al TG Web del Consiglio regionale. Argomento centrale della discussione di questi giorni all'emiciclo è la nuova legge elettorale regionale, quella con cui si andrà a votare tra novembre prossimo e marzo 2014 per il rinnovo dell'Assemblea e l'elezione del nuovo Presidente della Regione. Il dibattito continua, c'è stato un rinvio del punto nel corso dell'ultima seduta perché non è stato trovato un accordo soprattutto per quanto riguarda le soglie di sbarramento. Per il capogruppo del Partito Democratico Camillo D'Alessandro infatti il testo licenziato in commissione comporterebbe dei problemi di ingovernabilità. Di parere opposto invece il capogruppo del PDL Lanfranco Venturoni e quello di rifondazione comunista Maurizio Acerbo. Abbiamo approvato all'unanimità, alla maggioranza una legge in commissione che oggi viene qui in aula. Il PD ha presentato 500 emendamenti, altrettanto l'altra parte della minoranza. Io credo che se si apre un dibattito sereno potremo anche trovare un accordo. Se si va allo scontro vuol dire che la legge elettorale la dobbiamo fare per forza. Siamo purtroppo costretti a una battaglia che blocca la legge perché c'è un tentativo del PD di portare lo sbarramento per chi non è allineato con i due poli al 6%. Questo sarebbe francamente antidemocratico e non sta né in cielo né in terra. Già l'Italia è l'unico paese in cui c'è il maggioritario secco e lo sbarramento. Adesso portare uno sbarramento così elevato significa soltanto voler eliminare le forze come rifondazione e similari che danno fastidio ai due principali partiti. Altro tema al centro del dibattito, la vicenda di Ombrina Mare, l'impianto di estrazione petrolifera che dovrebbe sorgere a largo del litorale di San Vito Chietino. Il presidente Nazario Pagano ribadisce il no convinto del Consiglio regionale. Giusto ricordare agli abruzzesi che già dal 2008 la regione Abruzzo, in particolare il Consiglio regionale d'Abruzzo, l'Unanimità, sposò la tesi di un progetto di legge nazionale che potesse essere poi assunto dal Parlamento nazionale per impedire sostanzialmente che trivellazioni allo scopo di rinteracciare petrolio, estrarre comunque idrocarburi dal mare Adriatico potessero continuare a nascere dinanzi ai nostri mari. Questo anche in virtù dell'incidente che vi fu gravissimo nel Golfo del Messico soltanto due anni fa. Ebbene, questo progetto Ombrina Mare trova quindi l'opposizione sostanziale della regione Abruzzo da parte, immagino, di tutte le forze politiche qui presenti. Quel che bisogna giustamente ricordare è che purtroppo in materia energetica la competenza non è regionale. Lo abbiamo detto tante volte, purtroppo ogni legge approvata dalla regione Abruzzo che riguardi l'energia viene impugnata dal Governo nazionale. La Corte Costituzionale la abroga perché di fatto l'energia è una di quelle competenze esclusive dello Stato. Ci occupiamo adesso della vicenda dell'istituzione della zona franca urbana all'Aquila. Ci sono infatti ancora diversi dubbi e difficoltà per le imprese riguardo all'accesso ai 90 milioni di fondi stanziati per questa misura appunto di sostegno. E il Vice Presidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, auspicando una nuova collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria, ricorda che le domande vanno presentate entro aprile in caso di risorse eccedenti. Il numero delle istanze, le somme potrebbero però essere dirottate anche verso i comuni limitrofi. Io credo che ci sia bisogno di uno sforzo complessivo da parte delle istituzioni, di concerto naturalmente con le associazioni di categoria per fare in modo che questa opportunità, stiamo parlando di circa 90 milioni di Euro, non sia vanificata perché altrimenti tutto il lavoro che è stato compiuto da chi ci ha creduto sul serio come il sottoscritto rischia di essere buttato al vento. Si tratta di 90 milioni e si tratta di una opportunità reale e credo sia assolutamente follia vanificare questa possibilità. Voltiamo pagina nell'ultima seduta del Consiglio regionale, strapprovata la legge a sostegno della mobilità ciclistica che prevede una serie di misure per incentivare l'uso delle due ruote. Tra i promotori di questa legge c'è il consigliere regionale del Partito Democratico Claudio Ruffini. È una legge che vuole sostenere la mobilità compatibile con l'ambiente, una mobilità che oggi si rende anche necessaria in condizioni difficili e economiche e una mobilità che spesso è insicura perché attraverso strade percorse anche da mezzi pesanti ed è per questo che noi vogliamo dare l'opportunità alla regione, al suo territorio per creare non solo la cultura ma anche infrastrutture. Cambiamo ancora argomento, parliamo di cultura perché da tempo le organizzazioni che operano nel settore chiedono alla regione di rifinanziare le leggi che prevedevano contributi per il sostegno alle loro attività. Il Consiglio ha ripreso la discussione e nelle commissioni si sta lavorando per cercare di arrivare ad un testo di legge condiviso da portare poi all'approvazione dell'Aula. Ma quali sono le esigenze e le istanze degli operatori della cultura? L'abbiamo chiesto ad Antonio Massena che è il direttore artistico del Teatro Stabile di Innovazione L'Uovo dell'Aquila. La cultura in Abruzzo sta bene, però se continuiamo a tagliargli le risorse e quindi continuiamo a tagliargli l'ossigeno vuol dire che da qui a un po' non ce la farà più da andare avanti. L'obiettivo a questo punto? L'obiettivo è recuperare le risorse in maniera il più veloce possibile, razionalizzare quelle che sono non solo le risorse ma anche le attività rispetto a quello che è il bacino di utenza della regione e riuscire ad avere un colloquio proficuo fra istituzioni pubbliche, quindi la regione Abruzzo nel suo insieme e le istituzioni culturali. Ed è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.